A SST Settelaghi, Università dell'Insubria, hanno presentato insieme tre nuovi direttori di reparto che all'attività clinica uniscono un'intensa attività di insegnamento universitario e di ricerca. Francesco Grossi, alla guida di oncologia, Federico Deo, a capo di urologia e Nicola Zerbinati, nuovo primario di dermatologia. Tre specialisti accademici di primissimo piano che permettono a SST Settelaghi di perseguire la propria strategia volta al riposizionamento ai vertici del sistema sanitario regionale dell'ospedale di Circolo. Un riposizionamento improntato all'eccellenza e ormai portato avanti su più fronti, dallo sviluppo tecnologico a quello organizzativo, puntando allo sviluppo della ricerca e alla qualità delle proprie scuole di specialità, come sottolinea il direttore generale di SST Settelaghi Gianni Bonelli. In questo contesto, con l'università, abbiamo deciso di fare un riassetto nelle apicalità che riguardano alcune discipline e riassetto che consentirà e ha consentito all'università di accreditare nuove scuole di specialità. Quindi in particolare oggi abbiamo presentato i professori Deo e il professor Grossi, che peraltro erano già presenti all'interno della nostra azienda come primari ospedalieri, ma che ora essendo diventati professori saranno primari universitari, e poi il professor Zerbinati, che invece è la nostra new entry, che è stato incaricato da pochi giorni. Allora, l'attivazione di nuove scuole di specialità per noi come azienda è molto importante perché vuol dire la formazione di nuovi specialisti nelle discipline di appartenenza e in un scenario attuale in cui c'è carenza di medici, di specialisti, per noi questo è importante perché garantiremo il turnover dei prossimi anni e potremo sostenere lo sviluppo delle attività qualora fosse necessario con nuovi specialisti. La sinergia con l'Università dell'Insubria, SST Settelaghi, permette di contrastare il fenomeno nazionale della carenza di medici specialisti, garantendo piuttosto un rinnovamento continuo del personale medico. E come afferma il Rettore dell'Ateneo, Angelo Tagliabue, questa collaborazione mette al centro il paziente. Quella di oggi, secondo me, è una giornata nel segno della più ampia collaborazione tra due aziende, collaborazione che mette al centro il paziente. Il paziente è al centro di questa collaborazione perché noi lavoriamo per la salute del paziente e quindi tutte le risorse umane che sono a disposizione, universitarie e ospedaliere, sono unicamente centrate con questo scopo e continueremo in questo modo qua.